Questo è Gianni. Dopo la scuola ha deciso di iniziare l'apprendistato di Cuoco, perché gli piace osservare sua madre mentre cucina e aiutarla. Durante l'apprendistato la passione di Gianni per la cucina diventa sempre più forte. I diversi ingredienti, le spezie, il gusto. Gianni si è appassionato. Dopo tre anni Gianni conclude il suo apprendistato come primo della classe, con un AFC. Tuttavia Gianni si è posto un nuovo obiettivo, i campionati svizzeri delle professioni. Si allena duramente per Swiss Skills e si aggiudica un posto sul podio. Iniziano i suoi anni itineranti, all'interno e al di fuori del paese. Al ritorno in patria viene assunto in un ristorante di spicco come sous chef. Contemporaneamente studia per l'esame professionale di capo cuoco. Quando in città un nuovo hotel apre i battenti, Gianni assume la direzione della cucina. Per prepararsi per il posto affronta l'esame professionale superiore di capo cucina. Oggi gestisce con successo il suo ristorante, che verrà presto premiato come nuova scoperta dell'anno. Gianni può guardarsi indietro e vedere una carriera professionale di successo. È felice di aver intrapreso il giusto inizio con l'apprendistato professionale, grazie al quale ha potuto seguire la sua passione.